Scuola e università si riparte. Sicuro di avere tutto per il tuo rientro a scuola? Hashtag Cisur Back to School Vinci ora con il giveaway time di Cisur Segnati in agenda 1 settembre, 8 settembre E se non hai l'agenda, vincila, è facilissimo 1. Segui at Cisur underscore international 2. Commenta come è andato il tuo primo giorno di scuola o rientro in università 3. Tagga due amici È veramente facile partecipare Vinci lo Scanner Fancy Pro Due zaini, buoni sconto, agende digitali e segna libri fantastici di design Rimani connesso al canale e iscriviti A breve la recensione dell'innovativo Scanner Fancy Pro Stay tuned in